Cari amiche e amici che ci seguite da casa, con il vostro Marco Pareti per la rubrica messaggi in rete, questa volta da Cascia con About Umbria. Ci sta seguendo e ci sta dall'altra parte una persona, Monica Del Piano, l'assessore a politiche sociali, istruzione, comunicazione e bilancio. Le ho dette tutte, Monica? Tutte, sì sì. Bene, ciao Monica, come stai? Buonasera, bene, bene, grazie. Diciamo che nonostante tutto comunque siamo sempre ottimisti. Assolutamente. Allora, con Monica Del Piano, che ci siamo conosciuti in precedenza durante un evento particolare che porteremo sicuramente a casa del progetto Donna Vede Donna nel prossimo futuro, quando riusciremo dai nostri isolamenti per andare nella bellissima Cascia e oggi sei oltre come assessore di tutti questi incarichi, anche come voce e portavoce del sindaco del comune, che noi salutiamo appunto il sindaco e tutti appunto tutti gli abitanti di Cascia e delle frazioni di Mitrofe per parlare un po' di questa situazione in particolare legata all'emergenza sanitaria. Il comune di Cascia, come sta gestendo questa situazione? Allora, innanzitutto porto i saluti del nostro sindaco Mario De Carolis, che è ovviamente molto contento di poter anche comunicare, diciamo, quello che è un momento così difficile per noi, per il nostro comune. Noi già da stasera abbiamo avuto altre notizie di altri casi che sono risultati positivi al Covid-19, per cui qui sul nostro territorio noi abbiamo otto persone positive. Quindi questa cosa ovviamente ci incute paura e ci incute comunque tensione e cerchiamo nel miglior modo di poterla gestire. In che modo soprattutto? Stando vicino alla popolazione. La popolazione è impaurita per ovvi motivi, quindi cerchiamo il più possibile di stare accanto a loro, di offrirgli soprattutto quei servizi importanti, essenziali, che in questo momento di isolamento, di non rapporti sociali, hanno ancora più bisogno. Siamo tutti costretti a stare nelle case, per cui quindi sono molto difficili gli spostamenti, ridotti veramente al minimo, come sappiamo tutti quanti. Quindi che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando soprattutto di stare vicino a quella fascia di popolazione che innanzitutto è la più fragile. Noi abbiamo già attivato da un po' di tempo un servizio spesa a domicilio per quelle fasce un po' più deboli, i casi che comunque hanno delle difficoltà proprio per poter uscire. C'è anche da dire che comunque i nostri supermercati si stanno attivando per poter portare la spesa a domicilio alle famiglie che comunque lo richiedono, quindi questo è già un contatto che li aiuta tantissimo. Poi cerchiamo in qualche modo anche di offrire loro delle occasioni per distrarsi, per comunque essere impegnati all'interno delle case, ovviamente le ore sono stessime. Abbiamo avviato un progetto che è un gemellaggio con un comune del nord, alvese Concassano. Allora guarda, adesso sinceramente la provincia mi sfugge, Lombardia, quindi è un comune parecchio colpito da questa situazione del coronavirus, che noi lo abbiamo conosciuto, pensa che assurdità, nel senso che quando noi abbiamo avuto il terremoto del 2016 è stato uno di quei comuni che c'è stato vicino, nella solidarietà e nella beneficenza. Quindi ancora una volta nella disgrazia e nell'emergenza ci siamo ritrovati. Che cosa abbiamo attivato? Abbiamo attivato per tutti i bambini, per tutti i ragazzi, da fare un disegno a casa, un disegno che esprime la loro emozione, ma che abbia la scritta dello slogan Io resto a casa. Tutti questi disegni poi, nel momento in cui speriamo che finisca presto l'emergenza, verranno raccolti e verranno stesi ai piedi del santuario della Basilica di Santa Rita e sarà un momento di festa, inviteremo la cittadinanza di Albese con Cassano, saremo ospiti anche noi in questo comune, perché anche loro altrettanto stanno facendo la stessa cosa, quindi è un modo per sentirci uniti in questo ulteriore momento di difficoltà e per tenere impegnati i nostri bambini e i nostri ragazzi in questo gesto di speranza. Questa è un'iniziativa. Mi sembra una bella iniziativa questa, perché oltre che attivare i bambini del luogo di Cascia, ovviamente è la vicinanza con la regione la più colpita in questo momento e speriamo che rimanga appunto così le situazioni che non si possano ancora espandere ulteriormente appunto nel territorio nazionale. Quindi credo che sia una cosa molto bella. Da questo punto di vista, essendo un momento dove tutti devono stare in casa, dove tutti in qualche modo debbono rispettare certe indicazioni istituzionali, così come quelle della comunità scientifica sanitaria. Questa è un'iniziativa che voi state facendo. Ne avete in progetto le altre? Sì, ci sono altre iniziative in progetto. Noi per esempio adesso stiamo cercando di attivare qualche cosa che possa coinvolgere sia i ragazzi, ma anche un pochino gli anziani, che sono le persone che magari vivono un pochino di più la solitudine. Sono progetti ancora alla fase embrionale, ma che a breve cercheremo un pochino di rendere pubblici, ma sono tutti rivolti a coinvolgere all'interno delle case le persone, proprio per non farle sentire sole. Per esempio noi abbiamo anche fatto questa mattina, mi era stato proprio richiesto da alcuni anziani, ma da molte donne, una diretta Facebook con il rettore della Basilica di Santa Rita, padre Bernardino, che ha recitato proprio una preghiera, una benedizione per tutta la cittadinanza di Cascia, ma per tutto il mondo. E lì ci sono stati collegamenti su Facebook, un numero impressionante, che hanno pregato insieme a noi. Quindi puoi entrare nelle case di tutte queste persone che ovviamente sono costrette all'isolamento. Così come la nostra banda comunale di Cascia ha attivato per esempio delle iniziative in cui dai propri balconi ogni persona che fa parte della banda suona comunque una musica, che poi la mettiamo in chat, la mettiamo sui social per poter coinvolgere un po' tutti e fare ascoltare musica alle persone. Ci sono anche dei numeri o dei riferimenti a cui si possono chiamare e si possono indicare per quanto riguarda esigenze magari per portare medicinali o spese a casa, piuttosto che esigenze per persone che sono da sole, che hanno necessità di beni di prima importanza ma che non si possono muovere. Allora guarda, per il discorso dei servizi diciamo che abbiamo attivato noi per le persone in difficoltà, sì c'è un numero del comune che è lo 0743, se vuoi te lo dico, 75 13 66. Lo puoi ripetere per favore? Sì 0743 75 13 66 ed è un numero che risponderanno ovviamente per capire insomma che tipologia di persona è e vedere se questo servizio può essere attivato. Altrimenti ci sono comunque i numeri sia dei nostri due supermercati che chiamando e mettendosi in lista ovviamente loro poi si organizzano per portare a casa la spesa. Bene Monica, allora grazie di queste tue indicazioni, di questa tua disponibilità e soprattutto sappiamo in questo momento di difficoltà generale l'indicativo ed imperativo è restiamo a casa non avendo paura del coronavirus ma avendo cautele e precauzioni nel confronto di questo malandrino tipaccio che ci cammina fuori delle porte e quindi dobbiamo avere attenzione, sicuramente questo sì, ma non perdiamo appunto la speranza e la forza e il coraggio che ci contraddistingue ogni giorno per quello che siamo. Vuoi lanciare un messaggio di chiusura e di saluto ai tuoi concittadini? Allora sì, io vorrei dire un forza, coraggio perché è un momento difficile per tutti quanti, per Cascia, per l'Italia, per il mondo intero, però dobbiamo essere uniti, dobbiamo cercare di rispettare tutte le regole che ci vengono dette perché quello che stiamo combattendo è qualcosa di invisibile per cui è ancora più difficile sconfiggerlo, però dobbiamo stare molto attenti, ci dobbiamo tutelare per noi stessi, per i nostri cari, per le nostre famiglie, per la nostra comunità e per la società. Coraggio, coraggio perché ce la faremo tutti quanti insieme e presto torneremo di nuovo ad abbracciarci, sicuramente con uno spirito diverso. Assolutamente, allora grazie Monica, grazie a Monica del Piano e al sindaco De Carolis, a tutta la giunta di buon lavoro e di questa tua disponibilità a lanciare questo messaggio e soprattutto un ciao e arrivederci a presto e andate a visitare Cascia perché la Santa Rita aspetta, ma al di là di questo è comunque un borgo bellissimo che ha delle cose splendide dal punto di vista culturale ed artistico. Andiamo a Cascia perché quando tutto finirà, Cascia sicuramente ci accoglierà. Noi vi aspettiamo. D'accordo. Grazie. A presto Monica. Grazie mille. A presto. A presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.